Bella raga, qui è DJMS, Beats for Breakfast, Sweet Poison, Vicenza, direttamente dal Beats for Breakfast Studio Raga, colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri di un buon Natale E anche per dirvi che non me ne frega un cazzo di che festa è, di cos'altro Ci becchiamo tutti il 25 sera, la sera di Natale, a Trento per il Natale Letale Freestyle Contest Ad argomento esclusivamente natalizio Vi faccio solo qualche nome Ares Adami, Hosting DJ Slego, il mio fratello degli Scratchi DJ Dima, Jack Macchia, Arena051 Azo Tuan, Bassano Raga, super live, super freestyle Che cazzo altro vi devo dire? Io sto preparando un po' di strumentali, secondo me ci divertiamo un casino Natale Letale, 25 Dicembre, la sera a Trento Pow!